Buongiorno, è tutto fatto, hai firmato, sei il giocatore del Monza. Sì, sì, ho firmato adesso e niente, sono molto contento e con tanta voglia di iniziare. E ritrovi tutta la tua famiglia lì, è una questione di famiglia il Monza, tu, tuo papà, tuo fratello. Sì, sì, ci ritroviamo tutti lì e niente, cercheremo di fare il meglio per il Monza, per la scuola e per tutti. Per te è un'occasione importante, l'anno scorso l'esordio in Serie A con l'Inter adesso ha la possibilità di dare continuità in Serie A. Sì, sì, cercherò di migliorare, di avere continuità e niente, aiutare la scuola come posso. L'ultima, ritrovi Gagliardini, l'hai sentita? Sì, 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 mi ha chiamato per venire, mi ha detto che mi aspettava e niente, adesso lo vedo. Una frase veloce, scusa, Marotta ha consigliato a tutti i fan di allenatore di comprarti perché segnerai tanti gol. Lo sapere se hai sentito questa cosa e che cosa ne pensi, vedo già che tu sorridi, quindi mi ha fatto piacere. Sì, sì, l'ho vista e niente, mi ha piacere certo che una persona come ludica o queste cose e niente, cercherò di fare un paio di gol.